Diverse le società di Serie D che nelle ultime ore hanno rimpolpato i comparti under a disposizione dei rispettivi tecnici. E' il caso soprattutto di Grevine Cerignola. Alla corte di De Leonardis si accasano in classe 2002 Francesco Di Martino, terzino proveniente dalla Beretti del Picerno, e Munir Benkalek, esterno di centrocampo, ex settore giovane del Padova. A quella di pazienza invece approdano Giuseppe Delle Curti, terzino classe 2002, che giunge in prestito dalla primavera del Benevento, e Nicola Salvemini, classe 2003, centrocampista ex SPAL. Nelle scorse ore invece il Nardò aveva annunciato il ritorno tra i pari di Joachim Milli, classe 2000, di proprietà del Lecce. Movimenti importanti in eccellenza soprattutto sul fronte Toma Maglie. Oltre al difensore classe 85 Fabris Defo, ex Gallipoli e Galatina, si accasa in giallorosso anche l'esperto centrocampista Mattias Grandis. Classe 89 l'argentino è reduce dall'esperienza in D con il Franca Villenzinni. Lo Stuni, dal canto suo, aveva infine rinforzato la retroguardia a disposizione di Cotta, con l'ingaggio di Vincenzo Chiocchia, Tarantino, classe 94, nella passata stagione in D a metà tra team Altamura e Gelbison.